Siamo a Pescara Porta Nuova nel centro vaccinale dove, lo vediamo dalle immagini del nostro operatore Andrea Berardinelli, ci sono code davvero chilometriche di persone che vogliono ricevere la terza dose. Qui abbiamo l'assessore alla protezione civile del comune di Pescara Eugenio Seccia, bella patata bollente insomma che voi e la AS la dovete in qualche modo risolvere. Sì, in effetti c'è stata una coda emotiva dovuta alla rimpennata dei contagi, quindi le persone si sono presentate qui senza pronotazione per la maggior parte. Quindi un appello, se mi consentiti, lo farei al rispetto delle pronotazioni per evitare che ci sia un affanno anche da parte dei sanitari e degli operatori di protezione civile che cercano di far mantenere le distanze alle persone. Dal caldo nostro noi come comune, pur non essendo un'attività sanitaria, ovviamente cerchiamo di agevolare questa attività e ci stiamo muovendo anche per individuare un'altra sede vaccinale che insomma possa in qualche modo attutire e soddisfare le esigenze emotive, come dicevamo prima, forse anche giustificate da parte della cittadinanza. Secondo voi ci sembra già fatta per parte del Paladanelli, Palafiere che tutti insomma abbiamo conosciuto, è stata un'eccellenza per quanto riguarda le vaccinazioni e pare che parte del Paladanelli possa essere indirizzato di nuovo alle vaccinazioni. Sì, c'è un'interlocuzione abbastanza stretta con il dottor Danelli, che va il nostro ringraziamento passato e anche per la disponibilità attuale. Stiamo cercando di individuare degli spazi da destinare a questo nuovo hub vaccinale che vada ad assorbire questa eccedente richiesta di vaccinazione perché il Paladanelli è affittato per attività fieristica quindi Danelli sta cercando di fare un'ottimizzazione degli spazi per ricavare questa sorta di hub vaccinale in parte di quello che è stato il nostro hub precedente. Io penso che le volontà di entrambi ci siano, spero che a breve si vada a una definizione per cercare di soddisfare le esigenze del nostro territorio. Qui si stanno facendo soltanto le terze dosi con Moderna, Pescara Porta Nuova, vero? Sì, qui la ASL non ha la farmacia quindi c'è solamente Moderna che praticamente rappresenta l'equivalente dell'altro tipo di vaccino del Pfizer. Per quanto riguarda i tempi per il palafiere si può già ipotizzare un periodo? Ma dovremmo da qui a un paio di giorni definire questa situazione per trovare questi spazi, poi il tempo di allestirlo. Quindi verosimilmente, azzardo a dire che entro una decina di giorni probabilmente siamo nelle condizioni di mettere in condizione la ASL di somministrare anche questi ulteriori vaccini in un altro hub per attire e a zerare queste code che si stanno creando. Però l'appello, lo ripeto, è quello della prenotazione, altrimenti si creano difficoltà sia per i sanitari che per l'operatore di protezione civile.